sette secondi o 5 ma se in canottiano bestiace bentornati piacere un onore incredibile eccoci qua con il dietro le quinte e il retro delle quinte che quindi il retro delle quinte cos'è è la quarta la sesta la sesta bestiace un piacere un onore bentornati con inani 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 stasera si gioca ai nani ritorno tumori ritorna ritorno tumore vedete il ritorno si per cui così si chiama il gioco retorno tumore perché perché noi ritorniamo non a moria ma ritorniamo a giocare retorno tumore che è un gioco che vedi inani che ritorno a moria maestro duro ci accompagna ma non solo la vale è qua con noi saluta eccoci qua perfetto ragazzi ha salutato saluta anche prima un po di di lei un po di di lei un leggero di lei si sia assolutamente da qui alla cucina bestiace un piacere un onore bentornati stasera ragazzi si fatica sappiate che io non sono al cento per cento delle mie forze quindi probabilmente mi vedrete andare in bagno avanti indietro non vi dico cosa succede in bagno cosa è successo non lo so è successo che il 70 per cento degli esseri umani è intollerante al lattosio io sono quel 70 per cento io sono quel 70 per cento io sono quel 70 per cento e quindi eccoci qua allora ragazzuoli in realtà ci sono mille cose di cui discutere la cosa più fantasiosa alla quale possa pensare l'essere umano non riesce neanche a raggiungere minimamente di sfuggita questa notizia che diciamo folgora un po tutti quanti noi appena la sentiamo Jared Leto ha scalato il monte il monte l'empire state building stavo a dire il monte building l'empire state building che si trova in america si sa lì in ohio e niente così l'ha scalato giusto per annunciare che ritorneranno i 30 secondi marzi 30 secondi ma non lo fanno già le persone che si occupano di pulire i vetri per dove penso sia illegale farlo di tua spontanea volontà penso abbia avuto un permesso speciale no non ha avuto alcun permesso speciale è salito da solo e ha detto guardate ritornano i 30 secondi marzi il problema è che ancora lì e non è ancora sceso ma ogni cosa che fa quest'uomo è legittima c'è è finale quindi ragazzi incredibile ritornano i 30 secondi marzi sei già rotto i coglioni di recitare la sua carriera fa un bim bum bang tra musica e scuola di teatro gli danno solo parti del cazzo non è vero ma si è preso l'oscar che cazzo stai dicendo ha preso l'oscar ignorante capra quando ma guarda tutti ormai l'oscar ma cosa vuol dire dimmi qua dimmi quando no c'è un curioso veramente l'ha preso per il film aspetta non mi ricordo se era cazzo quale quale film era che è un film che io non ho visto tra l'altro o forse lo vi no non l'ho visto lo volevo vedere quello futuristico io adoro jared lo so lo so lo so lo sappiamo ah quel film ma che ha fatto un sacco di anni fa sì e un sacco di anni fa beh che per te io che ho 30 anni sono vecchio è però cazzo ma l'ha preso l'ha preso lui o il film l'oscar no non morbillus cos'è morbillus il seguito di morbius mister nobody mister nobody forse sì io mi sono reso conto che mi sono fatto il rewatchione di fight clown mi sono reso conto che c'è già in fight clown fight clown ragazzi tu sei un clown anzi tu sei l'intero circo la prima regola del fight clown è far ridere esatto esatto la seconda regola è che non ci sono clown nel fight clown ma ti ci senti ecco vabbè sì c'è Jared Leto che viene sfondato non mi ricordavo non mi ricordavo viene massacrato di botte da nord ovviamente twitch contestualizza si tratta di Jared Leto è normale che ci si massacrano poi c'è quella frase ad effetto inutile cosa perché l'hai fatto volevo volevo distruggere una cosa bella ottimo ottimo perché non l'ho mai capita quella scena ma quel film è genia mamma per favore quel cazzo ti accorgi sempre dopo che il film il nome del protagonista c'è vabbè lasciamo perla mai vivo norton luca grazie mille sto meno male adesso norton quello che ha fatto l'antigirustra l'antigirustra cazzo come parli stasera no sei tu che sei tu che non sei sordo non sono io io non sono sordo appunto l'hai detto bene ma attenzione ragazzi la nuova ed entusiasmante notizia che culminerà con la nostra gioia assoluta tanto da strapparci le vesti e rotolarci nel fango in preda un raptus di follia ragazzi è uscito lo steam deck oled se prima c'era la switch oled adesso c'è lo steam deck oled ma domanda a che serve a niente non serve a niente ma ha delle specifiche migliori a parte avere lo schermo oled costa 200 dollari in più ecco le specifiche incredibile ragazzi che cosa state aspettando wow 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 399 lo steam deck normale e 649 l'oled oppure 549 non so forse due versioni diverse con memoria differente ma guardate qua è perfetto praticamente identico non cambia una benemata ceppa chi di voi in chat no non si può dire chi di voi in chat a lo steam deck io io a parte a parte a parte sto qua madonna sembri veramente chicco appena uscita guarda che guarda che mi ho di me mi sono reso conto adesso con la luce che ho saldato un pezzo di barba c'ho due peletti qui e beh se ti radi al buio io no io 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 no vabbè nessuno di voi ha lo steam deck ma meno male vuol dire che siete sani di mente ragazzi avete fatto no perché effettivamente non ne vedo sono sincero magari è figa però non ne vedo significato magari è figa tutto castrato voglio la voglio su una maglietta questo magari è figa maestro duro sotto la citazione andrea duro magari è figa andrea duro 2023 bellissimo ma col punto di domanda o tre punti di sospensione perché cambia tutto magari è figa punti due punti di domanda ma attenzione altra notizia che entusiasmerà i nostri cuori ormai calcificati da questa triste vita ryan reynolds conferma che c'era the deadwood 3 io non spero neanche non ci fosse più infatti poi mi sono cacato sotto che c'è anche l'attore che fa l'occhi che c'è anche l'attore che fa l'occhi e vai nella filmografia si vede sotto che parteciperà c'è l'attore che fa la tachipirina c'è l'attore che fa la tachipirina guarda battuta scontata ma grazie grazie anche mille per il mega spoiler eccolo qui guardatelo lui è ryan reynolds no non è vero tranquilli e si chiama dog pool ossia pool ossia cane come cazzo dice oddio pool come si chiama piscina piscina di no 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 vedi che ti sbaglio ogni volta la pool è la cosa dove scrivi la la lavagnetta il sondaggio il cane il cane il cane lavagna eccolo qui il cane lavagna guardate che meraviglia che è un cane affetto da bruttezza come potete vedere è una roba oscena sembra è la lingua quella è una protuberanza credo sia una proposta da lì pensa succhia il nettare questo qua lui questo qua si avvicina ai fiori e succhia il nettare con quella lingua come colibri sono sì sono dei cani messicani sono fatti così sono più messi che cani e sono fatti così appunto in particolare senza i capelli sparati carini carini certo deve piacerti deve piacerti lo schifo carino carino ma io vorrei vedere con voi ma dai tutti gli animali soppiezze core ma io vorrei vedere con voi il trailer di inside out 2 ti prego io mi sono rifiutato ma lo voglio vedere lo vedremo dopo la la fine del gameplay quindi qua per adesso chiudiamo però piccola parentesi sui uno è stato carino comunque a me è piaciuto poi ho pianto sì ma ne parleremo dopo dai altrimenti non finiamo più poi adesso li saluto però attenzione cosa adoro cosa adorate che affermi vediamolo poi vediamo ma attenzione attenzione perché qual è la 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 piccola diciamo il piccolo espluato io inside out quando uscì inside out io non sapevo neanche fosse un film d'animazione ma dal dal titolo pensavo fosse un film di guerra non so perché inside out pensavo fosse un film d'azione entra ed essi una roba del genere inside out ma anche tipo le viscere inside ed out hai ragione cioè effettivamente hai ragione non avevo la minima idea non avevo la minima idea salvate il soldato orion inside out sarebbe tipo il sottotipo sì 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 io quando senti cioè stavo per uscire inside out ho detto che che chi 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 no l'anno bellissimo american inside out scrivo nì già si sì 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 e quindi niente basta e questo verrà una piccola ecco è vero è vero c'è ragione c'è ragione ragazzi c'è ragione vabbè vi saluto intanto grazie mille ad angela grazie mille a migno grazie mille a lamarti grazie mille guarda a neymi grazie mille a camolia grazie mille a bestiaccia grazie mille a transmitted grazie mille a barroch grazie mille a becchia grazie mille a greek andre andrea il greco Incredibile Grazie per queste sub Ah il pelato giustamente L'unico e il vero Ma volevo salutare gli altri I bifolchi, gli amici miei CopTV Biggest CopTV Biggest Fan Poi abbiamo Silesia, Coldama, Caffecaldo, Stefano, Nick, Daxin Eccolo lì, Horizon, Otia Leleb, Pippo Don Tuorlo Coldama, Dadaele, Nardo Nerdo The Python Sera Balala Stefano, Imperius Gemma Poi abbiamo Georgia Abbiamo Hydraxen, abbiamo Guerriera Elfica, Celtica, Altica Charassan Ma che solo Guerriera Guerriera e basta Messingine, Segugio Jokey8 Del Cedes Gab, Iacoclas, Angel Radox Non è possibile Fabivola Adesso andremo avanti Tutta la sera Balberit Hydraxen è l'ultimo Ma non ultimo Chi è l'ultimo? Ti faccio Lo sapevo Lo sapevo È ultimo Ma non ultimo Pulp Pulp Fiction È ultimo davvero Perché sto morendo Polifemo 44 Vi siete rifatti Il rewatchone Tarantiniano? No Cazzo Io ho visto L'altro giorno Ma perché? Su quali base? Perché devo fare Ogni te una volta al mese Bellissimo L'abbiamo visto Una volta all'anno Mi rifaccio Mi rifaccio Il rewatchone Di Tarantino Iniziamo a giocare Tutti Tutti Noi ci siamo rivisti Poco tempo fa Django Dateful 8 Io tutti Me ne sono rivisti Io a volte li mischio Dateful Django Sono tutti Nello stesso universo Allora Bastardi Bastardi senza gloria Bastardi senza gloria Bastardi senza Django Abbiamo visto Poco tempo fa Bastardi senza hate Sì 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 Allora facciamo partire il gioco No io adesso riderò Questa minchiata Tutta la sera Che non fa ridere Però siamo ragazzi Però fa ridere Ci siamo uomini Sempre sono È finita Attack on Titan Bene Farò finta di guardarlo Eccoci Andrea c'è La Vale la sentiamo di sfondo Mi ha fatto vedere Un pezzo di Attack on Titan Le ultime puntate Che vabbè figurati Io non ho seguito un cazzo Mi sono ritrovato A vedere le ultime puntate Della penultima stagione Ed è incredibile Che dopo tutto questo tempo Passato Non è cambiato di un cazzo È sempre noiosissimo Uno degli anime più noiosi Ma quello Quello più che ha fatto Più visual Nella storia dell'uomo E che ti devo dire La gente ha cattivi gusti Eh c'è ragione Non lo so Io non mi ricordo Più Dove fossi Cioè dove ero arrivata A guardare Quindi mi sto riguardando L'ultima stagione Che è tipo Parte finale Che non so se è la 2 Parte finale Parte 1 Ma non ci sto più capendo Che cazzo Guardo quelle che ci sono Però vabbè Tanto so già Come finisce Perché mi sono spoilerata Da due anni Come finisce Da quando è uscito Il finale sul manga Io sono dentro Comunque Quando volete La password Allora Allora Mia dolce metà No non sto parlando Di Andrea ragazzi Mia dolce metà Mi dici il codice Per favore Ah io sono lontanissima Ti mando la foto Ma dillo c'è nel senso 3 J G Aspetta Aspetta No anzi Inviami la foto Va Inviami la foto No lo stavo scrivendo J J di English È bellissimo Allora 3 di 3 No non devi dirlo Inviami la foto Eh ho detto Inviami la foto Vabbè dimmelo No non di Inviami la foto Eh Amore inviami la foto Per favore Però veloce Entro oggi No foto Dove No foto No foto No foto Andrà la invio Anche a te Aspetta Vai Te l'ha inviato Sì Allora Eh Andrea La foto del codice 3jg No aspetta Aspetta Ok 3gg Io sono Sono qua Non so Non so dove mi trovo Che cosa stavo facendo No sto morendo Aspetta No 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 Allora ragazzi Vedrete Allora mi ammazzo Adesso appena entro Così rinasco da voi Rinasco Vabbè ma stasera È incredibile Eh Allora Vedrete Il caizzo trapezio Per favore No basta Ti prego Basta Ma io lo denuncerei Quell'uomo Ti giuro Mi sta rovinando Mi sta rovinando Ogni momento felice No sono morta Dande dio Ma sei vicino a me Mi vieni a soccorrere Così non torno a Andrea Allora io volevo far prima Vedere un attimino il posto Però a quanto pare Sto gioco non si può Giocare seriamente Sì perché abbiamo Guardate Guardate cosa ho creato Con le mie manine C'è incredibile Dove sei morta Poco più in là Ma mi vedi Se ti giri Guarda Ma ti vedo Ti sto raggiungendo Stiamo costruendo Un passato Allora ragazzi In questo preciso istante Quello che state vedendo Sono le profondità Del creato Siamo sotto Moria Ma come sei morta In passarella Come una vera modella Stavo facendo qui La Cazzo mi ha avvelenato il fungo No non posso Te la parla da solo Grazie Grazie Siamo nelle profondità cristalline Che sarebbe il terzo livello Del gioco Ok Il gioco si dispone Su circa sette biomi E abbiamo costruito qua Una 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 Io mi ammazzo Vabbè Ragazzi Le ultime parole del maestro E abbiamo costruito qua Una struttura Per sopravvivere Abbiamo messo dei miglioramenti Tra cui questa spada Un nano con la spada lunga È inguardabile Ma aspettate che lo guardiamo meglio Eccoci qua Guardate Guardate che bello Nel mentre che puzzo di veleno Qua abbiamo il nostro teletrasporto Che siamo riusciti ad attivarli Grazie ai diamanti neri Che abbiamo trovato In giro per la mappa Abbiamo la macchina per l'inchiostro Per modificare le colorazioni Della nostra bella armatura Abbiamo uno scrigno Per riempircelo Di cose molto carine Abbiamo un altro scrigno Incredibile E qua scavato nella roccia Abbiamo creato il nostro Il nostro Provo a raggiungervi Non so come Ma esatto Ma tu dove sei? Eh sono all'accampamento Dell'altra volta Guarda Fai il viaggio rapido C'è un viaggio rapido Ha fatto discesa cristallina 2 Però non so se è quella giusta No no non devi fare Devi fare gli abissi inferiori Vedo il tuo nome Andrea Sei qua vicino però Devi fare abissi inferiori Siamo andati ancora più nelle profondità Risvegliando qualcosa Abissi inferiori Ok Perché l'altra volta si è buggato E io sono caduta giù a caso E tu ti sei fatto tutta la discesa Guardate cosa permette di fare il gioco Guardate Io voglio un letto e un tesoro Esattamente in quest'ordine Guardate che bello ragazzi Aiuto aiuto Ci sono gli orchi Mamma mia Livello di recitazione Ok Allora vi starete chiedendo Perché non c'è il tetto Beh perché sto gioco è una merda Merita il 4 come dice IGN No in sostanza ragazzi A parte gli scherzi L'alba si avvicina A parte gli scherzi Cosa succede Che la costruzione è completamente buggata Sto aspettando che la sistemino Perché io metto roba E questa roba si autodistrugge Eccomi Eccomi Eccolo Eccomi Sono però nuda Accendete i fuochi Nuda e cruda Dovete darmi un po' di robe Quello che vuoi Qua c'è una rastraliera con delle armi Guarda che meraviglia La mia ascia Vediamo qua Però è bella La mia ascia Nanica Nelfica stavo dicendo Però sono belle le case C'è pure l'albero bianco A proposito Non so se ti ricordi Ma noi dobbiamo affrontare Un nuovo boss Ti ricordi? Eh sì Infatti Andrea è qua per questo Perché ridi? Allora Datemi un po' di armi Perché ridi? Ma non hai? Allora abbiamo fatto Lo spadone gigante Se vuoi Trottolare Ah perché tu non hai più armi Eh no perché Mi sono ammazzato Per usare il viaggio rapido Perché l'ho da tutt'altra parte Per forza Se no non potevano Mi sono ammazzato Per usare il viaggio rapido Trovatevi un amico così Scrocchi tutte le roba È certo È certo Perché tu hai fatto le cazzate prima Complemento È certo Lascio lavorare gli altri E ne approfitto È così che funziona Il capitalismo Allora cosa vuoi C'è Tutto 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 Giusto giusto Vuoi farti la spada La prima era L'ho fatta io La spada della prima era Come l'hai fatta tu C'è arrivato Ci ha ciulato le robe Sì 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 È venuto qui Andres è bugato Guarda Sta facendo il bacino Ma che è Ti sta in palla Andres è bellissimo Sei live Sei un franco bollo Guarda Ma fagli vedere la casa Ma perché con quella posa Poi ti sei fermato Si è frisato così Vabbè Che mi fai Che sei bloccato Bellissimo Vabbè ci sta Ci sta È tipo quello che Mettevano le Nei stessi Sono quelle immagini Che parlano da sé Sembra che stai facendo Ma non è che si è impallata La live Perché non vedo più No non credo Fagli vedere la casa Che su ci sono Le rastre Vabbè dai Lasciatelo così Lasciatelo così Ma che succede Quando un ventriloquo Io lo vedo Ok voi lo vedete Ragazzi Perfetto Ok adesso È ripartito No ma cosa sta succedendo Se clicco sul gioco Non funziona Come mi fai Ma perché Aspetta un attimo Che provo a modificare Le impostazioni Ragazzi Il controllo Che non ci sia Qualche minchiata Ah perché mi fa finestra Schermo intero Eh no beh Schermo intero Ah no Schermo intero Mettimola schermo intero Scusami Tipo un lingottino Conferma Ok Sei mobilizzato Andrea E sei mobilizzato Andrea Sì E sei mobilizzato Anche la chat Eh boh Non so Ho qualcosa Che non va Andrea Con OBS Perché ogni volta Adesso non so Che Strano Strano Aspetta Aspetta Questa è una cazzata Di OBS Quando sono in gioco Non riesco più a vedere Nella chat Non mi funziona Quindi non è Don't scream No non era Don't scream Io non so che cazzo Devo fare Ah quindi È sempre lui È sempre lui È sempre OBS È OBS Che smerda Adesso io No no ma io No ma ragazzi So che siete So che siete in chat Vi riesco a leggere Però quando clicco Sul gioco Inizio a giocare Mi si blocca la chat Quindi non scorrono Più i commenti E si blocca anche Camify È come se il resto Non funzionasse più Funziona soltanto Il gioco La webcam Il resto mi si blocca Però in realtà Sta andando la live Quindi non so Che cazzo sta succedendo Se Perdonami E se puoi interessarti Anche se non c'entra Col problema Che hai al momento Attuale Puoi farti una spada Di fuoco O una spada Di ghiaccio Abbiamo abbastanza gemme Sì ma non è Non è il momento Non è il momento Cioè Problema tecnico Cioè ma non è il momento Allora lo faccio In finestra Se faccio così Eh no il cazzo Quella prima Eh Si immagina Però adesso riesco A leggere la chat Non funziona più Andrea Ma funziona la chat Credo Andiamo un po' No non funziona Andrea La chat sta andando Stanno scrivendo in chat Ragazzi Mi date un segno di vita Se stanno scrivendo in chat Eh si si La chat va La chat va Eh allora no ragazzi Ho un problema Aspetta Verisa problem Ho un problema Che non so come risolvere Eh lo so che voi mi vedete ragazzi Io ho un problema però Dio bono Dio bono Ma se tolgo sta cacata Faccio così No Ah questi sono gli eventi È il lingotto del ferro Ho bisogno Sto cercando di Eh fatelo abbiamo tutti Eh ma non so perché Non me lo fa raccogliere In che senso raccogliere Qua la fornaccia Mi dice che è cotto ma No lo prendo io Aspetta te lo prendo io Eh capita anche No Ce ne sono due Anzi tre Risolvere ragazzi Per poter vedere la chat Semplicemente per questo Però mi sa che è un problema Serve di ferro o d'argento? Ferro 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 che mi faccio lo scudo Economico Mi sa che è un problema Più grande del previsto Ah no ma fatti Quello più Più pompato Eh ragazzi Devo provare Devo uscire dal gioco Perdonatemi Esco dal gioco Poi rientro E vediamo momentaneamente Che cazzo succede Perché mi sa che mi si è proprio Rincoglionito OBS Purtroppo voi ragazzi Vedete tutto Ma io non riesco a leggere I vostri commenti A sto punto Che cazzo Che cazzo la faccio fare Una live Se non leggo Anche ieri Uguale Mi stanno prendo un po' il cazzo Sta roba Dov'è Stay No qua Ma lo fa solo Con alcuni giochi Ah perché Non ho lo zaino Ecco perché Non mi fa raccogliere le robe Vuoi Vuoi che ti faccia Uno zaino? Se riesci Grazie Thank you Purtroppo Ero nudo Anzi non è che ero nudo Sono diventato nudo Però Mi dovete aiutare un secondo Perché lo zaino Lo puoi fare Dell'esploratore Ma Non so se è quello più grande Tutti col catarro Comunque Vabbè comunque L'importante è che sia uno zaino Stanno sistemando ragazzi Non ho pretese Non ho pretese In teoria te lo potresti fare anche tu Perché tanto Abbiamo la pelle qui in Allora Allora è fatta Specifica Vediamo un po' Cattura finestra specifica Eh E te cerca Mela Eh Proprio Anche a me la domenica Dava un botto di problemi BS Non so che cazzo gli sia Ma dovranno aggiornare qualcosa Aspetta Ti vedo che ti muovi Attenzione In chat Scrivete Ditemi se sta funzionando la chat Non mi sembra Non mi sembra Sì Sì Oh Alleluia Ok ho messo il gioco in finestra E sta funzionando ragazzi Wow Perfetto Allora aspettate che devo mettere Figa Devo metterla password E ritornerà tutto come prima Come nulla fosse Ve lo prometto Credo Nel senso che si impallerà di nuovo Sentite la musica della sconfitta Ce la faranno i nostri eroi No La risposta Eccoci qua Unione alla partita in corso Oh Allora dove cazzo era Posso dire una cosa ragazzi Quando mi scrivete cambia gioco Mi viene un nervoso dentro il cuore Che vorrei che in quel punto si fermasse Per mettere di soffrire Non capisco perché Non capisco perché abbiate sta È una cosa che non sopporto veramente Perché la passione e l'anima che ci mettiamo nel Nel scegliere i giochi I duemila giochi Allora fammi passare I duemila giochi che abbiamo nella nostra libreria steam Da bambini ricchi quali siamo Voi non avete idea Della fatica La pastinaca Al pesce Abbiamo i letti adesso La pastinaca è una verdura Cazzo dico Sì la pastinaca Quando si è avvelenato Se bevi un'altra intera di birra guarisci Dande dio Allora andiamo a fare sta cazzo di boss fight Dai Dai ridicoli Dittemi dove mettere il giaciglio C'è un piano di sopra con i letti Vedi tu Va bene Ovviamente tu Ma lui non lo devi No lui lo metti qua Andrea mettiti qua guarda come i cani di traverso Ho detto mettiti là e me l'ha messo Adesso lo distruggi e lo metti più là No 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 Lo faccio io In centro In centro In centro Lo faccio io No se lo metti tu Se lo metti tu No Spostati Levati Levati Oh Oh Ma proprio che sento la fragranza Esatto finalmente Oh Eccolo La nostra cagna Perché è femmine Il suo personaggio Ma è un lavoro L'hai messo su uno o l'abbiamo mai fatto? C'è un ratto C'era un ratto Dande dio Aspetta vorrei uno scudo però Ci sta mettendo tre quarti d'ora quella cazzo di fornaccia Lo scudo Ah tu e lo scudo Aspetta te lo do io Ma anche di ferro No no guarda ti do un'opera d'arte letteralmente si chiama così Si chiama Baluardo Oh vedi Te lo do a te Tanto io per adesso non lo uso perché ho un'arma a due mani Sono Dino Andrea ogni tanto si inchioda ancora E chi se ne frega L'importante è che leggo la chat ragazzi L'importante è che funzioni la chat Dove sei te? Io sono qua ho fame Guardami Guarda la mia spada è di fuoco Ah invece la mia spada è di fuoco E questa è di ghiaccio Questa è di ghiaccio Lo puoi fare se vuoi E manca il rubino però Noto pazio Lacerazio Tuono Ametista e gelo Mi faccio il tuono vai Gnamme Ok io mi sono rifatto la vita La stamina Ci vediamo in guerra Dov'è che è il nemico? No aspetta un secondo È un'ora che sto aspettando un secondo Muovetevi Ma riesci a dividermi il cibo Perché io ho nove robie di carne Che ci possono arrivare Sì te lo divido io Mi salta in testa E invece no Non ti do niente Così impari a rispondere Oh così non ho responsabilità Andiamo per favore Addilo La strada del pellegrino Ragazzi vi ricordo che un pellegrino Che si compiace Utilizza allo fresh Esatto Io ho mangiato i tacos stasera Erano molto etnici Anch'io ho mangiato Non la roba di allo fresh Il fatto che stia male Non c'entra con allo fresh Sia chiaro Infatti infatti Anzi Anzi Proprio perché non hai mangiato allo fresh Grazie Cosa No quello che ha detto Andrea Ma che succede Che è sto grigio Oddio Un pipistrelo L'ho ucciso Meglio mi serve Mi serve il guano E non me ne ha dato Ah trovatevi una donna così Che ve lo chiede Che vi chiede il guano Ma io non ho tutta la stamina Ma la fa una locale Ma ci sono pecore Madonna santa Sono caproni Definisci Non andare di là Che ti avveleni L'ho uccisa solo per divertimento Dan de dio Deo Ragazzi i nani Sono creature mistiche Sono creature Malvaggi Da un Andare di qua Mentre si intende i nani fantasy Non di certo Eh sì sì Nani con gli ardici Ah io non ho picconi Non ho niente Non serve Non serve Noi stiamo seguendo te Non so se E qua è E qua Allora Andrea Quello che stai per vedere È un accampamento goblin Per arrivare Praticamente in fondo All'accampamento goblin C'è un goblin un po' più grande Chiamato goblin un po' più grande Lo solitamente uno è Un goblin padre Un goblin padre esatto Una volta sterminati tutti Hai visto che sono cresciuti i funghi Di nuovo Ma che figa È l'umidità I fiori I fiori Poi dovremmo fare Sti fiori qua Non c'erano prima Ah il legno Ubasam Il legno Ubasam Che si ricava da queste fibre Dei funghi Ma perché hai la torcia accesa Che è pieno di luce qua Ma franzia Non cazzo Non vedo niente Eh no Mi ha fatto sentire Ma ho fatto sentire Di troppo Cazzo Oh riaccendi La ricerca Sembrano dei fiori di zucca Sì è vero Parà di qua la strada del pellegrino Quindi Ecco a me piacerebbe Inchiuderti qua dentro Andrei a mettermi qua sotto Con la torcia accesa Oh una mintiana tortura Di quelle Cos'è quello Che minerale è quello? Eh? Che minerale è quello? Eh? È un minerale di stagno Ah stagno Mi c'è più competente Ah beh Non lo so Ma un anno ad occhio Percepisce Autore Percepisce La lega metallica Presente nella roccia Sono in stage Sono in stage Ma perdonami Tu hai visto l'altra volta Quello grosso e cattivo Dov'è? Perché io sono finita Qua e sono morta Sì ti ho finita Ma stiamo seguendo te Ma non è possibile Ma no è lui che ha trovato Il tizio l'altra volta Non io Ma non puoi fidarti Della sua memoria De Dio Deo Ma se tu vai E ci lasci qua Guarda Si è spazionato Dove cazzo sei? Ci ha abbandonato Dove sei finita? Madonna mia I bambini al parco giochi Sono qua Qua L'ho vista L'ho vista Dice che siano dei bambini L'ho vista L'ho vista Eccola qui La nana E allora dov'è scusami? Ti piace la mia spada etero Non l'ho vista Guarda Vabbè ma tranquillo Non c'è più Nel 2023 Non c'è più scelta Non puoi scegliere l'etero Qualsiasi color Qualsiasi indumento Tu pensa Vado alla Decathlon Voglio scegliere No no Ma che cazzo ride Vado alla Decathlon Vuoi scegliere semplicemente Dei piatti di chiesa Per sollevare pesi in palestra? Bene Sono viola Sono rossi Sono purple Li voglio neri Li voglio grigi morte Cristo Ah eccolo Allora Penso che se ti colpiscono Ti avvelenano E pian piano muori Quindi non ti devi far colpire Muori bestia Ma li shot Ah Fanno 43 di danno Non va bene Uccidilo Allora ti avvelenano Io mi occupo dei million Sto per morire Sto per morire Muoio Sto per morire Datemi qualcosa per curarmi Non c'è niente Sto per morire Vieni qua Non esiste Venite voi da me Sono morto Ah no Non te ne vanno Ragazzi Mi raccomando Siate competenti Bravi Il colpo di grazia Brabri Che abri Cioè l'avete ucciso Si l'ha ammazzato io Come l'altro Li ammazzo sempre io Lo fai Che tu poi muori Ma non è bravo No ma lui Non è assolutamente Gli altri due L'ha ammazzato Uno ne abbiamo visto Chi ha ucciso il troll Chi è che ucciso il troll Chi è che ucciso il troll Chi è che ucciso il troll Ma c'entra il troll adesso Ma chi è ucciso il troll Tu hai tirato l'ultimo colpo Che cazzo senti Eh cosa vuol L'ultimo colpo sarebbe ucciderlo Non è vero Quello che tu uccide E' ciò che ti logora col tempo Ah il primo Quello che tu uccide In teoria è il primo Ma domanda Ma come fai se già lì Chi La male Mi dai qualcosa per curarmi Per favore No tieni fuori Aspetta Mangia 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 Guarda quanto che esce Non finirlo però Carne salada Buona Le mani si sa Si nutrono di questo Gnam Ah l'abbiamo ucciso Abbastanza easy Non so come vai Ma che l'abbiamo ucciso Eh niente Ragazzi vi giuro Vi giuro Più un'anni ci sono Nesto gioco Più il gioco è facile Perché io e lei Facciamo una fatica Non è settata No è esattamente il contrario Cioè più si gioca E più è facile il gioco Ma è vero Sono pochissimi Perché l'altro che avevamo fatto Io e te insieme Non finivano più Quindi non c'è adegua Non c'è adegua La difficoltà Di dite Eh no Non credo Quindi in otto In otto Praticamente Svergini moria Cioè Sfondi la montagna È proprio Maestro duro ragazzi Ma Dov'è che è la Ho trovato 12 diamanti neri Io non vi trovo più Io sto uscendo Perché tanto Non c'è più niente Come 12 diamanti neri Dove 12 diamanti neri Nella mia tasca Cos'ho nella mia tasca Che cazzo è L'indovinello Cos'ho nella mia tasca Non vale Spago Bani Oppure niente E proprio Lo fa uguale ragazzi Perché nella sua Ma perché c'è una C'è una Scavo Vediamo dove conduce Minerali Chi è che mi dà Un piccone Minerali di stagno Inutile Ma secondo me Non ti conduce da nessuna parte No c'è minerale di stagno Ma che lo lasciamo E tanto ne abbiamo talmente Tanto di stagno E niente Torniamo a Andrei Comunque ci sono altre strade Quindi l'obiettivo è la strada Del pellegrino Andiamo alla strada Del pellegrino Allora qua ragazzi In queste Nella prossimità Della terra C'è C'è l'acqua La strada del pellegrino Perdonami La strada del pellegrino Guarda sulla mappa Dov'è È lontanissimo Cioè Non abbiamo proprio La minima idea Di dove si trova Quindi ci dobbiamo fare un botto Non era l'inizio La strada del pellegrino Ci sono delle curiosità In questo gioco Che si legano ovviamente Al mondo di Tolkien Ragazzi Quindi se Vi ricordate Più si va a fondo Scavando nella terra Con avidità Più si risvegliano creature E infatti Io non dico un cazzo Adesso vedrete Adesso vedrete Balrog di Morbot Vabbè Dobbiamo tornare in tre Comunque Stiamo cincischiando Ma ci sarà Nanos terra Alla fine Sì figa Te l'ho detto 27 volte Se vai sul teletrasporto C'è la zona Nanos terra C'è proprio scritto Dove cazzo sei tu Ogni merda di volta Mi giro e sparisci Come al supermercato Voi non avete idea Del cazzo di nervi Si va al bam Dio bono Sono lì Mi giro Non c'è più E passo 30 minuti Come il bambino Sperduto Cazzo A cercarla E non la trovo E lei Tra i surgelati Tra le verdure Io disperato Non capisco Dove cazzo è È stata tutta una fantasia Un anno e mezzo Di fantasia Che cazzo è successo Non si sa Non si sa Porca puttana Ma guarda sulla mappa Dove sono Io sto tornando indietro Perché non c'è più niente Da esplorare Non ti troviamo E siamo in due Vieni tu da noi Se siamo incapaci Vieni tu da noi Io sto secondo te Allora in tutto ciò Io dovrei dormire Perché sono stanca E io sto rifacendo La stessa strada Lei va a dormire Che è stanca Ma dove cazzo è l'uscita Mamma mia Un cubo di stanza Non riescono più ad uscire Sono qui Sono qui Vi vedo Dai Qua Segui la freccettina arancione Segui la freccettina arancione Ci prende Ma come la freccettina arancione Guarda che sono qui No no Come tre Come tre Come tre Eccomi qui 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 Gravi Cazzo Dovamo andare dritti Dovamo andare dritti Andrea Mi fai di quelle figure di merda Ti avevo già spiegato Che dove c'è Il Qua Guarda qui Del tizio Qua Che è sulla destra Dell'entrata Quindi dobbiamo proseguire Verso questa direzione Ma ti pare che a me me ne freghi Qualcosa del tizio Sulla destra Dell'entrata Io ti ho già spiegato più volte Per ricordarsi le strade Devi trovare dei punti di riferimento Cosa che non fai Sì ma io non vado a più di due tacche di stamina Cioè ci metterò un botto Comunque Ah guarda come river Guarda come si diverte Comunque hanno Sto volendo Hanno rilasciato la prima patch Di city scale In due Ho visto Che fixa un po' di problemi Ho visto Infatti il frame rate È molto più instabile Esatto Perché come si sa Come un aggiornamento Rovinano i giochi Sfondano i giochi Mi puoi gentilmente Ridare la carne Che ti ho dato prima Assolutamente Venga Venga qua Per morire io Allora quando Ecco perché siete contaminati Dall'ombra Quando siete contaminati Dall'ombra Si capisce Perché caratteristiche Si sente questo Ecco che cazzo era Infatti lo sentivo Perché intanto Mi sto contaminando Anch'io Perché qua Mi state spingendo E come la Come gli spelli Hai si prea Hai si prea Hai da la sua Aspia Aspia Allora Allora C'era Siamo Ce la siamo Fasta Quindi dopo Dove devo andare Dall'altra parte Dove stavo scavando Io E niente È tutto Uno scoprire Oggi Perché io Non so dove Allora È tutta campagna È tutta campagna Allora Intanto basta Cazzeggiare Che non sembra Una live serie Che cazzo è Che cazzo è Che cazzo è Ha ruptato qualcosa Live di streamer Che entri Parlano tutti i forbitti Parlano tutti i termini Eh Però una live così La guarderei Due ore Di Aspia Ti ricordi cosa Ti ricordi cosa dobbiamo proporre noi come roba Come roba Incredibile No I testi I testi di senso compiuto che si componevano col correttore Ah sì 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 Adesso a quanto pare Ci ha giocciolato l'idea Tu inventi qualcosa No È qualcosa che Ma è Vedi ormai Non si può più mettere Sei impallato Andrea di nuovo E vai così Ma sempre in stessa posizione Tra l'altro Andrei Allora a sto punto E che mi fai Basta Attenzione Sì non è Non è OBS Lasciami Lasciami frisato Ci sta Ci sta Lasciami Lasciami come un album di fotografie È una rottura di cazzo A sto punto Non so cosa dirti Dobbiamo un attimo Dobbiamo un attimo Sì adesso che abbiamo anche a fare Le nostre priorità Volete dormire? Sì io sono già letto Scrivete in chat Ok la chat funziona Almeno quella Andrà lo vedo a segmenti Ma non importa Ascolta che vorrei mettere a cuocere Un attimo del minerale No no lo sto già facendo Ah minerale no È diventato un fumetto il maestro Guardate Io sto facendo la pappa per la mattina Quella lì era l'espressione del Eh? 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 Allora Noi abbiamo un obiettivo Ma voi disgraziati non mi ascoltate L'obiettivo si chiama La strada del pellegrino Abbiamo capito E come ogni pellegrino Giustamente si canta Quando si va Non c'è sulla mappa Dobbiamo ancora esplorare Allora ragazzi Non vorrei sbagliare Siamo qua a fare nulla Mi sto rompendo le palle Dormiamo dormiamo Sono stanchi Allora non vorrei sbagliarmi Ma la strada del pellegrino Non era la cosa che si vede dall'inizio Quella strada Quella lì è la strada del pellegrino Sì nel senso Sì da quella di Gandalf Non so se nel menu ci sono magari gli obiettivi E dove cacchio andare Però No vado a mangiare Vado a mangiare Poi mi faccio un po' di equipaggiamento Che non c'è niente io Quindi aspettatemi per favore Allora Magno Dobbiamo farci delle riserve di cibo Avete del cibo da portare con voi? Voi fate il cibo Mi faccio un attimo Anderio Almeno piccone vorrei fare Io ho papà Undici di carne salata Io ho un papà E pensa a lei lo va a dire agli orfanotrofico E gli fa io ho un papà Lei è fatta così È crudele diri Ma perché la sento ridere dal tuo microfono? Ma non è vero Ma sì ma perché il mio non prende Non prende niente No è un microfono troppo Troppo serio Ah che lei supera i deci per quando ride Sì sì vado oltre Io voglio andare oltre Abbiamo un botto di diamanti neri Aspettatemi Aspettatemi che mi faccio un pick one Minchia ragazzi Se continuate a dire Aspettatemi Chiudo il gioco E gioco ad altro Aspetta un attimo Un attimo per favore Non devi aver fretta Io non c'è niente Aspetta Porca puttana È due ore che sto aspettando Non c'è fretta Faccio un'altra torcia Io avevo messo Ma io avevo messo Due armature Sulla rastrelliera Per le armature L'ho fregata io L'ho fregata io L'ho fregata io Ma quello è Era da arredamento Ma ma t'ammazza L'ho fregata io Allora vi spiego Cosa sei nel mentre Che questi cazzeggiano Vi spiego che cosa serve Il tesoro Il tesoro può essere contemplato Contemplarlo Guardate un po' Ci dà molto in forza No aspettate Ci dà un bonus Un bonus temporaneo Che ci aumenta il danno In questo caso L'ira del tesoro Più grosso il tesoro Più dura questo Questo buff Però E a questo punto Noi possiamo prendere Le cose dal nostro tesoro Perché si può usare Anche come Scrigno Puoi metterci Cioè non c'è Del legno elfico O puoi aggiungerci A puoi aggiungerci O puoi aggiungerci O puoi aggiungerci O puoi aggiungerci Rove dentro In questo caso però Il nostro tesoro è ricolmo Quindi non posso aggiungerci nulla Volevo mettere il granato Ma a quanto pare Faccio il piccone Faccio l'altro piccone Dai adesso Manca un lingotto e arrivo Di che? Di acciaio Sto già facendo Ah no niente C'ho l'argento Eeeh Ho il granato Il piccone della prima era Ho il minerale di stagno Perché c'è del minerale di stagno Qua beh senti Io mi sono rotto Mancano 20 Si mancano 20 secondi Facciamo che l'ordine non esiste In sto gioco Me ne sbatso i coglioni Ho del guano di pipistrello In tasca Come i bambini Assaggialo Assaggialo Il citrino ragazzi E' sempre con noi Il citrino Ma il citrino Non è quello Dello zampirone Quello lì è la Mi siete già riparati Le robe intanto Quella la citrona La citronella Mi siete riparati le robe intanto Io no aspetta Che Dio Deo Che si beffa di noi Che 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 ha fatto E poi tra le altre cose Quando siamo in tren Non ci sono mai orde Non c'è mai niente Si però possiamo Ragazzi veramente Andiamo avanti Aspetta Ci sono Figa Ho fatto Ho fatto Eccomi Allora In teoria Ciao Stando alla mappa E di là E' scritto di là I ma di là C'è una stanza vuota Non si va da nessuna parte Da quella parte lì Se vuoi proviamo ad andare Cioè Beh prega niente Però non Volete vedere un uomo adulto Piangere? Guarda Ande dio Deo Servirebbe Un bel montone Da usare come cavallo Fa ridere la parola montone Eccolo qui Il maestro è un porco Un maiale Come potete vedere Il suo spirito guida Il duro Il po' in che gioco era Che potevi cavalcare Quando una donna Dice Voglio un montone Lui subito si delizia Forse warhammer Che poi l'ho pensato anch'io Però Almeno Ho la tecnicità C'è un eroe Però ci serve Mi sacrifico io per voi Porco due Continua a sentire Ma dove stai andando? È sicuro di là Sì sì Qua è finito No 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 Non venite Non venite È pieno È pieno Prendiamo della pietra va O del legno O della pietra O del legno No io ho la pietra Aspetta Faccio io Il pavimento di pietra Per voi Sì ma devi fare un botto La maledizione dell'ASMR Comunque Sto arrivando Saltate Venite Comunque Era grande Se non sbaglio Era un warhammer Che I nani non potevano avere cavalleria Porco due Porco due Si cavalcavano I cinghiali Bellissimi Lo vuole capricare un cinghiale Venga È pieno qua Sto morendo Sto morendo Con stile Ti do la carne Andrea no Che cazzo sei sceso Ho detto mi sacrifico per voi Ma te che muoio Eh ma dai Un attimo aspetta Mamma mia Quello va in giro In mezzo al veleno Tutto Tieni la carne Mamma Tieni la carne Dov'è la carne? Aspetta aspetta Mi curo e gliela do Vieni 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 Veloce Intanto lo riparo qua Inizia a cantare Eh ti serve la pietra La cantiamo da qua Vai dal palco Porco due Quello cos'è? Ah del sale Vanno le robe che costruiamo qui Chissà qua ci danno un arco Sento sette voci diverse Buongi un arco Bello guarda Ma che cazzo No ho usato legno Ma c'è il parquet Il parquet ma che bello Ma che bello è Perché voglano Sei un figo Grazie Ma che ridete? Fa ridere Scusa Ma ce l'hai la pietra Per riparare le statue No Io poi no Torno a casa Eh vai a prenderla al volo dai E tanto Non abbiamo un cazzo da fare Prendine anche un po' che Prendine un po' di puro No Ho mangiato un altro pezzo di carne Per errore Fri dammela subito Fri dammi subito la mia carne Vibra naturale Grazie Wow guarda qui C'è solo Maledizione dell'oscurità Guarda che doppi video I cartoni animati Wow guarda qui Rizzata da villani Comunque ho capito come a Dino Siano spariti i capelli Ande Dio Dio Ande Dio Dio No mi sono rimaledetto di nuovo Non trovo la via di casa Bene Ma dove cazzo Ma c'era qui la pietra Ma era qui la pietra Come era qui la pietra No ma la vado a prendere di là Che abbiamo centinaia e centinaia Di topi di pietra Granito Che cazzo è Come granito Che cazzo è Granito Granita Cioè siamo un alieno sulla terra Guarda c'è un albero C'è del legno Che cazzo è Oh mio Dio Ci sono un botto di orchi Oh mio Dio Ma vedi che io non sto facendo niente L'orco L'orco boia Ma ditelo Volete giocare per i cazzi vostri Ma se te ne vai Ma è pieno d'occhi pure qua Muori Oh qua c'è un caprone che mi fissa Qui invece non c'è niente Come faccio curarmi Mamma mia Mi faccio rispettare E nel mentre perché no Uccido una capra Nooo Questa è la storia di un sardo praticamente Guarda finché non è un coniglio Dande Dio Dio Incredibile La lorra di Telegram Chi è che ha lasciato dei lingotti d'argento in casa mia? Io Grazie Cosa è che devo fare? Vabbè intanto mi mangio di soppiato La pietra L'app mietra E poi mi prendo la L'uovo L'uovo Cos'è questo? Quanta pietra ho? 58 Argento Facciamo che ne prendo 90 99 Questa qui la butto giù Vai vai sfonda sfonda Lo tieni deposit Ok Olè 58 Sto facendo fatica ragazzi Ok E prenderà meno un centinaio secondo me E che cazzo 86 Ah sì Un po' porsi Basta No ragazzi Se no non c'è Già Poi avete fatto a tornare me Due ore che dico Dai giochiamo giochiamo Andiamo avanti Torna indietro che ci serve La pietra Stiamo spessando Allora guarda Vi faccio vedere ad Andrea Eh certo Tanto io non voglio vedere Guarda Come vi raggiungo Bella domanda Ti vengo a prendere Con i piedi Ti vengo a prendere No Ma non c'è tipo un antidoto O un set che ci protegge Allora praticamente Noi abbiamo sbloccato La Eccola l'altra Anche io mi incazzo Con il mio amoroso Si ammazza i lupi Gli animali Affanculo Va bene Nei videogiochi In the witcher Ammazza i lupi Mi incazzo Cosa deve fare Cosa cazzo deve fare Mi siete mai chiesti Ma forse il lupo Non dovrebbe rompermi i coglioni No Wolf 28 Non mi sono avvelenato ancora Eh ma si perché non hai fatto abbastanza pavimento Non ho fatto abbastanza Ecco Questo è un grande classico della donna Datemi la carne Non hai fatto abbastanza Balestra della prima era Zitti Dammi la carne De Dio Ce l'ha lei la carne No mangio Ah grazie Ah no è per lui Ti buttala Ma in realtà Andrea Fai prima morire Che se ti rianimo C'è già metà vita E non sprechiamo la carne Ecco Mi fa infartino E ha anche sprecato la carne Moreno No no Non l'ho usata Abbiamo la balestra ragazzi L'ho sbloccato Eh serve un'altra Un'altra statua Di qua vieni Allora ragazzi Come potete vedere Riparare queste state Che tra l'altro sono bellissime Implica la scoperta Di oggetti E di armamenti Di items Che ci possono servire Nel mondo di gioco Allora qui ci sono i nemici Siete pronti Ma lì cos'è successo Ha scavato qualcuno Io io Può essere Ma ci sono solo due Allora in realtà Da lì ci sono tre strade Due per proseguire E una vuota Questa è una Quindi se iniziamo ad ammazzare Qui la gente Andiamo Andiamo Minerale d'argento Orco Orcs Però lì c'è ancora La maledizione Mi chiamo Ma fanno un mare cane Dobbiamo potenziarci Oh 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 C'è dal cielo Dobbiamo potenziarci Da giù Abbiamo più che potenziarci Farci ste cazzo di robe Siamo nella merda Perché se no ogni volta Siamo nella merda Gli spingono Sono troppi Ma sono già finiti No no Devi guardare Il bicchiere mezzo vuoto La mezzo pieno Non ho preso nessuno Però l'ho fatto con stile No sono morto Visto Come non erano pochi E grazie a darvi la carne a voi Non è rimasto No mi sono avvenenato No ce l'ho io ragazzi Il baluardo è fortissimo È baluardo È baluardo È un baluardo È un baluardo È un attimo Ariani Ariani Ti vedevo sinceramente Ti vuole la carne? Stavi tirando sui fiorellini da terra Io ho avuto a terra Vai vai È lì a terra Si sta impallando il gioco Che cazzo è successo? Che che l'ha presa di voi due? Ho visto la l'ha presa Io non ce l'ho Non ce l'ho L'ha presa lui L'ha presa lui L'ha presa io Tieni mi sto Bottendo di cibo Che bello Dalle vostre spalle Ma sta panchina bellissima È un'assa È un'assa Un'asse Vabbè ragazzi Vaffanculo Allora vediamo cosa c'è qui intorno Intanto Che là c'è una strada Per proseguire Anche lì sopra Oh Qui si si Ah qui si va avanti Per la sala del pellegrino Te Oh vedi che ce l'abbiamo fatta Feliziatene Sempre Sempre a lamentarci Quelli Perché qui non scava? Ah ok Posso C'era un vaginino Qui per entrare Non so se Ma sta stanza È enorme Ma che cacchio è? Ma state zitti Che c'è l'epicità qui Ma dove sei? Ma cosa stai facendo? Completamente impacito Ma vieni avanti che c'è un tempio qui Avventura ben trovato Nanos Terra Ma sta cantando Guarda lasciatemi stare Ah il monumento di Durin Finché Durin non si sveglierà dal sonno Durin non mi ho intenato tra l'altro Durino Ho una pelle d'oca ai piedi cazzo Durin secondo Un momento a Durin secondo Monumento Che momento Un momento Il mio è stato un momento Un momento personale Molto personale Le hit dei nani Ma dove state andando? Con le gambe corte Ma a parte il fatto che qua c'è sale Minerali Che se ne frega Allora andiamo dopo Io ho un botto di sale Chi se ne frega Ma chi se ne frega Sale senza la carne non serve a niente Ma chi sale senza zucchero Ma chi sale senza zucchero? Inutile Ma chi sale Ma dove c'è? Cioè sembra un tempio Vediamo cosa c'è davanti Siamo vicini comunque al cammino di Durin Eh si è di là la strada E avrò forse cantato un quarto d'ora La farfalla gigante Che carina Come c'è una farfalla gigante? C'è una falena enorme Avrò cantato Ma cattiva? Ma cattiva? Porco 2 è cattiva Tirate fuori gli archi Eh non ce l'ho io là Non ho diamanti i neri per riparare la mappa L'ho presa Sta arrivando Madonna mia Sembra Man in Black Ma è cattiva Ma no ma non vi fa niente No non fa niente Figurati Falena livello 2 La faccia è quella del Non ti fa niente Falena a livello 2 E fa molto ridere Mamma mia che schifo E fa tantosso Chitina Ma cosa c'è? Vieni qui sopra a vedere E' questa è piazza Bolivar Scusatemi Dice che è l'antica pompa di scarico Vieni a vedere Avete del Uh Un aquilone Chitina Avete i diamanti neri Così possiamo attivare il teletrasporto No non ce l'ho Te l'ho appena detto Sai dove sono i diamanti neri? Nel campo dei Goblin di prima Ma bellissimo Visto? Un'antica pompa Il sistema fognario romano Eh? Sai cosa c'è nell'acqua vero? Il Kraken? Costruisci i pontili per attraversare gli specchi d'acqua I pontili? Ah le pompe Le pompe c'ho lì Come si fa a costruire i pontili? Riesci a riparare questa che magari ci dà la balestra? Vai vai riparare La balestra ce l'ha già data Non è vero No due su tre Ma ce l'ha già data la balestra Non è vero? Si ce l'ha già data la balestra Ora ce l'ha data Ora ce l'ha data Ora ce l'ha data Ora ce l'ha data Ragazzi ce l'ha già data Ce l'ha data adesso Meno male Guarda meno male che ci hanno Ma perché devo avere sempre ragione? O che si fa a costruire? Ma dobbiamo costruire Ma ci puono? Di Maranza Dove? Oddio Uguali però Effettivamente No si è baggata la torcia No Si comunque la mi dà un obiettivo E di qua me ne dà un altro Quindi io sinceramente Andrei a prendere diamante nero Per costruire il coso E poi Dobbiamo Guarda me tu E che è morta? Io No C'è l'arco? Aiutami Ma poi da che pulpito Tu prima ti sei scantato Per una farfallina E sono pure venuto ad aiutarti Questa me la segno Ma come sei morta? Ma non la riesco a prendere Ma tu non potrei accarezzarla Andrea due secondi No no mi fa senso Mamma mia ragazzi E sono morta Non c'ho vita Perdona mia Salviamola Ma nessuno ha detto niente Sentiamo Serviamola Come si ringaluzzisce Ma Quindi ripeto Per fare i pontili Provo Possiamo fare i pontili Ti ricordi che lo possiamo fare? Che bello Pensa sdraiarsi qua Ma c'è un dei peni Eccoci Ma c'è Ma non c'è Non c'è altro modo Per definire Mi chiamo Guarda la quantità di notifiche Che c'è Porco tu Ma qui Sì no Abbiamo scoperto un po' di robe Andrea Aspetta un attimo Che mi faccio Male Allora per fare il pontile Ah non posso Cazzo non ho scatti di legno Chi c'ha la carne? Dobbiamo prendere E tre di legno di ubasan E qui sotto No la carne salata Ah il pontile si fa con legno di ubasan? E qui sotto il legno di ubasan Il maiale salato è particolarmente buono Qui credo che ci sia un passaggio Prova a romperlo Che magari si sbuca da un'altra parte Quindi dobbiamo andare da un'altra parte Costruendo dei pontili Ma i pontili da dove partono? I pontili da lì dove c'è la roba rotta Qua? Immagino di qua Poi c'è scritto che appunto il pontile si usa solo sull'acqua Ma allora No 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 Errorissimo Errorissimo C'è il troll C'è un troll Come c'è un troll? C'è un troll Io volevo disturbare l'acqua Però è verde Dov'è verde? Come è verde? Non bisogna Non bisogna giudicarlo Per quello che è Quel pollo verde Dov'è? Qua qua è qua Guarda vieni Nel buchino Fatemi luce Fatemi luce Fammi luce C'è pure l'oscurità Dov'è? È qua da qualche parte Era qui Ecco Ma che bello che è C'è florescente Guarda È bellissimo Costruisco Riparo Sto tornando Sto tornando indietro Con la spada Ma sei sicuri di quello che state facendo? Torna indietro Penso io Andrea tu fammi luce Fammi luce La destabilizzo Fammi luce Dove stabilizzo? Dove sta Porco due No è una dove Non la femmine Ci sono Ma lui si può ammalare Facciamo male Ti facciamo male Ma se ti pari Ti pari O non ti pari No Ma ucciso Lo destabilizzo Lo destabilizzo Lo destabilizzo Ci sono Ci sono Anche con lo scudo Ti fotte Quindi bisogna scrivere Affanculo Porca puttana vacca Fatelo voi Ah E arrivo Meratelo Questa è colpa È colpa sua Incidente la sua carne Il peccato Uuuu Uuuu Non mi ha preso Ti è che è morto Ahia ma ha tolto 40 No 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 Sparo le frecce Sulla schiena Sulla schiena È debole sulla schiena Nooo Mi ha ucciso qua L'ha calpestato come nulla Uuuu Vattene E chi mi salvano Ma non entra il sasso eh Non entra il sasso No Vai di frecce Di frecce In faccia In faccia In faccia In faccia In faccia Io mi aspetto Mentre ci vedete Ah no ma ha preso Il pezzettino Che si è spaccato Eeeh No pure i goblin Levati Tu hai animato Che sono i goblin Tu hai animato Ok torniamo a casa Presto No ma dove si arriva No no Andrea Fa una roba Fai muore Risvegliati Che stiamo tornando pure noi Sì così Rattiviamo il teletrasporto Poi dopo E ti teletrasporti Direttamente qui Questa capra C'ha i capelli Mi dai da mangiare La carne salata Non c'è più 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 Perché sto per morire Ragazzi Ma io ho una La chitina Materiali Ma lo posso mangiare No la chitina Che schifo La posso equipaggiare Un testino tenue A me ti fai tipo Ti fai tipo Un'armatura Da insettoide Da insettone Quindi ci dobbiamo portare Allora Per recuperare la roba Legno di uvasam E boh Ma c'è tutto un pezzo sopra Qua fichissimo Sì Rimani concentrato Dobbiamo tornare a casa Perché Andrea A casa E cicciula La roba Si potrebbe provare Cazzo Stiamo proprio guardando Nei forcieri Ricordi che ha letto Che i troll Sotto la luce Si si frizzano Se noi Si pietrificano Se noi lo attirassimo In questa sala Che c'è la luce dall'alto Magari Se noi lo costringessimo Esatto Ma poverino Ma poverino Cosa aveva fatto La frustate Boh ci ha ammazzato La percussione Non ci stava difendendo Comunque qui Devi costruire un altro pezzo di pavimento Se no ogni volta Comunque qui devi Dovresti Cartesemente Costruire Un pezzo di pavimento Per favore Mi piace perché quando si torna a casa C'è quel caratteristico suono Del vento Che Si è lasciato la porta aperta E tu Perché c'è l'ultimo Che è uscito Lui che non è tornato a prendere la pietra Tirato un pugno In culo a un ratto E E adesso mi sento meglio Dov'è che è la Dov'è che siete Mi son perso Io non ce la faccio più Ma dove sei? Non so Sei dove sono? Sei dove sono? In mezzo alle miniere Bisogna andare dritti Sono in mezzo alle miniere Perché io non vedi Io non capisco Non c'è Non c'è Non ci sono Dei 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 Delle immagini a schermo Che mi facciano intuire Sì ma è tutto bianco Scritto su bianco Guarda Ho capito Ma a me piacerebbe Avere un simbolo Tipo giallo Che cazzo Qui è dove vivi Cretino Come giallo Sì un colore Delle notifiche Ce n'è solo uno Che è all'inizio del gioco Che tra l'altro Devo levare Perché altrimenti Impazzisco Anzi adesso mi sa Che faccio ripulisti Della mappa Perché se no Qua veramente Allora nutritemi Fatemi dormire Lavatemi E precisiamo Allora E vai a dormire Vai Le robe Intanto Sto digerendo Sto digerendo Il tacos In questo Ragazzi ho sbagliato Ero Ragazzi Se ci pensate Solo due secondi Prima di andare a dormire E vi fate del cibo Da portarvi in viaggio Quando vi svegliate Già pronti Invece ad aspettare Quattro minuti dopo C'era C'era giù C'era giù C'è le robe basi Che si fanno In sti giochi qui Così per dire C'ha ragione Se no al massimo Ordiniamo Da HelloFresh Ci facciamo portare Della roba lì Sì 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 Non volevo farti passare Ma cos'è cos'è quest'astio Ma guarda che cattivissimo Chiudo le porte della cucina E ti picchio Ah beh Cos'è un revive Vattagliani venti Sì 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 No ma tu Tu saresti la figliola Vedi C'è già C'è già il septum nasale Perché sei una drogata Una tossica Ma per me In quanto mia figlia Poi le altre persone Facciano quel casco In casa mia E con la roba Non ce la voglio vedere Poi vedi tu Guarda Posso attaccarmi Posso attaccarmi alla stufa Guarda qua un bong Puoi trovare Vedi Poi dite Madonna Sì in effetti Poi non ti si può più dire niente Però Andrea veramente Allora La donna ha cucinato Cioè è incredibile No ho sbagliato Ho detto Vi fate il cibo da portare in tre Non stanno facendo un cazzo Complimenti a tutte e due Allora Non potevo non farlo Mi sono mangiato quattro funghi Anche se ho la pancia piena Perché ogni tanto si fa Ragazzi Sì il dessert Allora andiamo a dormire Che ho già preparato tutto Tipo quando Quando hai finito appena di cenare Sei pienissimo Ma trovi lo yogurt Che scade domani E devi finirlo per forza Ecco Ecco esattamente Questa è la storia Perché io sto male adesso Sì ragazzi lo so che Non va la mia webcam Quante volte lo volete scrivere ancora Ma chi ha preso i diamanti neri? Guarda un modello Guardate che roba Ragazzi è vero C'ho proprio un buco sotto Gazzo Chi è che ha preso i diamanti neri? L'ho preso io No Lei cerca di giocare seriamente Non me ne servono 30 Prenditene tripo tre o quattro Ma andrà a aprire il suo gazzo Sembrava La copertina Mi si immagina tutto è così Ho scritto gazzo Sotto la copertina Fate il meme ragazzi Sì c'è già la maglietta Se viene bene Fate il meme Per favore gazzo Che sai che c'è Scusami Lei cerca di giocare seriamente Cioè poverina Veramente Non c'è il rispetto per niente Eh cosa c'è Dimmi No t'ho detto solamente Non ti pigliare tutti i diamanti neri Che se crevi bisogna tornare Andrata Hai ragione Hai ragione Però non posso più staccarmi da qua Ah ok Ecco Eh non riuscivo a staccarmi Che cazzo di letto era Con la colla Allora per dividere gli items Devo fare Sposta rapidamente Sposta chiud inventario Prendi uno Sì è la scena di Rose Dipingimi come le tue donne francesi Cazzo Cazzo Quanti ne servono di diamanti Tre? Uno per costruire quella roba lì Ma se ne vuoi fare un altro Altri due o tre Quindi prendi ne quattro dai Non ho capito Non ho capito ma io me ne porto quattro Venire quattro Ok No erano cinque Me lo ricordo Ma dove vai? Vai a dormire Ma dove cazzo va? Che cazzo ne so Il gazzo mi ha destabilizzato ragazzi Ma dove cazzo va? Lo destabilizzo No perché non avete visto quello che ho visto io Appena l'ha detto si è frizzata la telecamera Lui in quella posizione lì Io proprio ho visto nella mia testa una copertina Di people Sì Prima pagina di Di qualche rivista Sì di people magazine Gazzo Allora io devo andare a prendere la mia roba però Aspetta che mi frega una spadina Ma la chat non sta andando più di nuovo Ma no ma vai tra tanto non incontriamo nessuno Andiamo lì direttamente E non sta andando più la chat Ma io non ce la faccio più Le ultime parole famose Sta andando la chat Stato scrivendo in chat ragazzi Ah io la chat la leggo in realtà No sì sta andando Va 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 Sta andando Sì funziona Aspetta un attimo No ragazzi perdonateci Non si sa che cazzo sia C'è OBS Ok adesso sta andando Sì sì Datemi dei segni di vita Mi raccomando scrivete Fate disfacete Disfacete Strada del pellegrino Lì che dobbiamo andare O a 230 yard Dove dobbiamo andare Dove dobbiamo andare a sinistra Le yard ragazzi sono il mio nuovo Ma comunque ragazzi A proposito di magliette Quelle di Halloween Sono finite ieri Spero le siete riuscite a comprarle Sì ma ne arrivano altre Tranquilli Arriveranno altre Tipo quelle dei meme Tipo schiva E la vorrei la maglietta schiva È necessaria Va bene Qua no qua ci malediamo Aspetta aspetta faccio io Io non ho mangiato Se vai veloce Non ti succede niente A posto Bravo io non ho mangiato Non ci passo più Ero troppo impegnato a ridere Bravo Sfonda spacca bravo Mi sono immolato nella causa E sono malato ancora Sono malato anch'io Eh ma che cazzo Vabbè ma non ce la fate proprio No non è vero Non è vero Non sono malato Non sono malato Ho sbagliato Vabbè ma tanto io Io valgo per due Anche con metà vita Ce la faccio tranquillamente Ma volete prima guardarvi No 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 Andiamola direttamente che deve prendere basta attivare il teletrasporto e poi è fatto che brutto ruttino che hai fatto le bolle bollicino sentito anche un po i pezzettoni che risaliva ma avete preso no vabbè ce l'ho io fa niente la cesta e caccio urlano i goblin sembra il sabato sera fino a ecco non dico questo per l'hai visto il video di che cacchio è successo in avigli l'altra sera che si pari di parigi di ultra di ultra del milan e del pari san germain si vede niente c'è una no le farfalle adesso serve non servono sette di pietra e un diamante nero quindi la famosa farfalla di belen era quello farfall one ok abbiamo il teletrasporto rapido ok allora qualcuno qualcuno tu vieni con me ma vai a casa da solo ma che cazzo no no devi distrarmi il troll così prendo la mia roba vieni ah già no no prima torno a casa che mi devo rifare la vita no però devo vieni vieni aspetta aspetta ma cazzo ma mi ha tolto tutta la vita ma ce l'hai la carne io c'ho il cibo se vuole passami del cibo che sono messo di merda veramente i miei chi mi aiuta che mi aiuta aiuto io appena mi dà il media il cibo ti vedo tutto io prendo la roba uccidiamo il troll insieme ma ci serve un sacco di reti che infarto sei morto davvero incredibile siamo cretini guarda due nana che mi schiaffeggiano mi è preso un infarto la vedi sta roba il cibo la vedi sta roba si dobbiamo farla per tutta l'acqua e che ci vuole faccio io il cibo si costruisce frutta secca ma basta questi elicotteri monsters in the air ma abbia tolto 40 ancora ma che cazzo c'ha a stile di che arriva perché non ti pari ma scusa vi prego aiutatemi sto mangiando tutto il cibo una cavalletta ragazzi fermate attiratemi il troppo mangiare tutto allora aspetta che lo butto giu prendetelo intanto andrea vieni qua ti aiuto ti do una mano mi devi attirare il troll lontano e prendermi roba e ho letto ho letto è stato bellissimo altra cosa è quella roba lì che si sta illuminando per terra l'avete visto è andrea lapide è la sua lapide veramente sta arrivando ma io uccido io lo uccido l'uccido anni del better one for this arrivare un cazzo non vale posto rompendo il legno bravo andrea fai tu fai luce mi ha schiaffeggiato bene guarda che crema non li vamo un caro li avevamo niente guarda nella pieni di levavamo tre quindi fai tu 30 per rollare r r di roll non è vero con r lanci l'arma allora se lo portiamo alla luce si chi è che è morto se lo portiamo alla luce si 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 destabilifica e quello che siamo rompere città delle gemme è proprio un bravo farlo e trovare le gemme la luce bene o uno di vita uno di vita scappa 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 un figlio del millennio avrebbe iniziato a metterla che la canzone la canzone del millennio quella è la metà infeggermina di attacca il titan qualcuno mi aiuta per favore che al cibo me lo ritai per favore arrivo tutto viene di 4 dove stai andando dove sta distrae lo distrae lo distrae lo distrae lo che cazzo vuol dire almeno mi guarda distrae qua devi colpirlo per distrarlo devi colpirlo grazie colpisci non mi conosce non ti deve conoscere colpisci lo lo tiro colpio di strago io furi anima lei ma lo devo colpire ma crepate entrambi vieni di qua vieni 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 qua no sono maledetto o cazzo grazie aiuto adesso che cazzo succede andrea che salto che ho fatto solo l'eletto che falto che che falto che ho fatto che salto che ho fatto cazzo aspetta che son maledetto ma perché stiamo uscire il nostro troll che si sta facendo matura e uscidiamolo mi hanno schiacciato ma lui la salvatemi salvate il soldato nano ah ma sei morto eh beh salvatemi salvate il soldato nano aspetta sono morto ma lui è incapace è incapace non l'ho visto non mi pensavo pensavo che ci fosse il burro non l'ho visto di recupero datemi un secondo che adesso attacco eh andrea però attaccano due secondi non esiste mi sto curando mi sto curando bisogna costruire questa stacqua qui se volete vedete che le frecce rimbalzano l'ho ucciso io con la mia freccia incredibile l'ho ucciso io con la spalla incredibile tesori tesori preziosi no che contempla prendi tesoro prendi tesoro rato è scadetto un rato ma mi stai infragando tutto è certo un rato no guardate cosa c'è lì il martello di c'è un pezzo del marcio un peggio un pezzo dell'arma di durin no lo prendo io aspetto l'ho preso quel cazzo stai facendo l'ho preso hai fatto il saluto 3 di 5 ripara sta merda istante no no pietro ai che noto ai donati pietro e dobbiamo prendere la pietra chi mi può dare del cibo che avevo uno di vita per tutto il tempo e non so come ho fatto a schivare facendo e allo aspetto a scusionista così amicina ci ha fatto non si spassa le non serve un cazzo la pelle di pelle non serve un cazzo la torcia mi serve andare bene non è ben più cibo granato lonice frammenti di metallo vabbè no gli orchi orcs ors coca riprendoli prendo no guarda come muore giovani ai mirtilli ti posso dare il merte ricordi vala e mera ritorna che riguarda la 17 di danno è illegale però 32 non si può ma insomma allora io vado avanti a prenderci la roba vibra naturale andare sia da un lato che da un l'altro quindi un po di fibra ciappa sulla pietra e mi raccomando che ci serve la pietra e così possiamo riparare la la pietra io ho due pezzi di pietra per adesso quanta pietra avete voi ragazzi sto prendendo ok dati a me tutti i pezzi di legno no sì perché io ho il martello di pietra e mi serve la pietra prendilo prendilo mi state dando la pietra questo è il granito questo è il granito questo è il granato a me serve la pietra qui c'è pietra vieni qui a prenderla io prendi i funghi allora quanto pietra ho 10 di pietra mi servirebbe più pietra o c'è che non la mica di testa la pietra c'è cazzo che cazzo ma non posso ridere ma vieni qua a prendere sta cacchio di pietra per favore arrivo a prenderla pietra adesso farà ridere sempre la parola pietra ve lo dico oggi ragazzi scusatemi sono umbriaco hai abbastanza di pietra 11 sto abbagliando ah io sto piangendo eh lo so Andrea mi servono 7 di pietra perché? scusa stai lì in piedi a tirare su sta torcia ti fa la stato della libertà ma stava da qualche parte ma perché fa ridere adesso? chiediamo umilmente perdono ragazzi sì sì non pensavo di arrivare fino a questo punto chiedo scusa ce l'hai? eh ho solo tre di pietra mi manca quattro di pietra eh ah stai spaccando il legno stai spaccando il legno con la pietra perché bisogna andare di là bisogna costruire una pietra però si sta soffocando da ridere sto piangendo non si vede ma c'ho le lacrime ma anche dal naso mi stanno uscendo mamma eh le lacrime dal naso detto pietra quarzo vero eh perché è sincero perché è vero e sincero ma lì c'è dell'altra pietra aspetta no seriamente ma sì ma qua è pietra e allora e allora guarda c'è anche l'altra stanza andiamo di là scusa ma allora quindi è vero che se piangi da ridere ti esce dall'occhio destro no pietra qua vieni a vedere la lacrime queste puttanate chi te le dice è daniele doesn't matter no no qua su terra però vediamo cosa vuoi è vero mi stiamo uscendo dall'occhio destro però eh sì sì attento che quali sono funghi velenosi eh il veleno è velenoso di pietra che bello funghi di pietra ho menato la pietra vediamo cosa c'è di qua niente cosa c'è di qua mi è venuto un infarco cos'è ma che è che sta parlando serpentese dai no ragazzi è morta con la pietra la gotta è svenuta con la pietra no la pietra l'ha uccisa non ci credo l'ho visto l'ho visto quanta pietra ti serve ancora è bellissimo continua a dire pietra tutta me ne manca uno guarda ce l'ho io andiamo orco cane è schifato la pietra sta crollando tutto qua c'è proprio dei nani ridiamo con la parola pietra vieni qua a vedere si ma sono proprio arrivati a dei livelli ma è vero che nelle campagne di D&D più fatte bene il master è fatto di pietra esige se il master se tipo stavo facendo un racconto e siamo in taverna ubriachi esige che i personaggi siano veramente ubriachi cioè che la gente beva davvero e diventa brilla ma forse uno psicopatico una persona normale io lo farei ecco sai che bello allora ho 5 di pietra torno a riparare col martello di pietra la statua di pietra e vediamo un attimino sì ma è un labirinto qua è un labirinto di pietra ma pensa io che lo devo rifare al contrario ah dai andiamo a fare sta cacchio di roba attento che qui cade la roba cade la pietra no no ma perché? ma che cosa succede stasera? io non sto capendo cioè è lì ma è parito tutto per caso adesso non so perché fa così ridere la parola pietra non lo so ragazzi ci siamo mi sono perso ma è la statua giusta di pietra? sì è quella lì ok e averla riparata non ha portato a niente però mi ha dato della pietra non sto scherzando mi vedi tutto torna sapete come si chiamerà questa live ricaricata youtube vero lo so ok da adesso basta lo prometto è l'area della mili non c'è ossigeno qui non c'è ossigeno che sono pazze sì sì la chiamerò pietra su youtube questa là eccoci perdonatesi ragazzi mi ha perso 100 spettatori grazie alla pietra boh sarà gente saranno persone gente con cuore di pietra sì perciò ma perché ma perché mi sbigliano tutti sto gioco ma che hanno polina la valle si è mutolita perché non sa tu che cazzo dire che ne mancano uccisione le le he anche a me le robe di pietra eeeh ho ucciso ma siete morti tutti Wie ci sono degli sponzoni andrea osso sono delle trappole ma come ti desideri a tu non devì scappare nel gioco attacca povero no no sono avvenenato non posso mi salvate non ci susprende ee ci sto provando però se Andrea ehi èratorio arriva arriva arrivo 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 a fianco al sasso отсorte Flow L'ho fatto di pietra, guarda. Occhio al veleno. Dai, non farmi ridere. Scusa. Non ho vinta, però. Vai, li spingo. Li spingo. Però è bello che ci sia le trappole. Non hanno mai funzionato per tutto il gioco. Adesso che ci inciampo sopra. Noi non le possiamo fare. Gli altri sì, però, infatti. Ma sono goblin, giustamente. Vai. The others. Come facciamo a salvarlo? Tirandolo su, se è pure lì per terra, faccio prima, in effetti. Madonna che botta, spenta. Ma se lo blocco mi avvelena lo stesso, come è possibile sta roba, perdonami. Ok, scusa. Cosa, sto piangendo. Scusate, ragazzi. Dove sei qua arrivo? Sto dorgogliando da un'ora. Ah, ne arrivano altri, ma come è possibile? No, 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 mi proteggo io. Ah, mi ha scocchiato lo sterno. Che svenuto. Allora, ragazzi, dato che non si può ridere, a quanto parla... Eh, vabbè, ma è una tragedia. Ok, la rianimo. Ok. Hai visto che la sua nana ha i capelli color... Sì, sì, color... Color cener. Sì, sì, color cener. Allora, ragazzi, dato che non si può ridere, essere felici, smetterò di dire la parola che ci fa ridere. Prima è impossibile. Tra l'altro, in questo gioco è impossibile non dire la parola. Allora, facciamo una roba, torniamo... Facciamo una roba, torniamo in Dre, e... Ok, faccio a lei che noi ci siamo persi. Che abbiamo il viaggio rapido. E niente, bisogna andare qui, 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 su sta roba qui che ho fatto qua. Prima, vai qua. Non l'avrei mai fatto. D'Andrea! D'Andrea! Ma qui siamo dal troll che tra l'altro è fatto di... È vero, i troll sono un paleggiamente fatti di pietra. No, il... Si va di qua. Infatti, si... Facciamo il viaggio rapido, poi torniamo, e poi ritorniamo. Ok, beh, ottima strategia. Ma lei, alla fine si è rambutolita, perché giustamente, quando sei di fianco a due squilibrati... Che... Che puoi fare di più? Ma io mi sento molto a mio agio. Che esistino. Allora, io mi trasferisco a casa, o volete... Ma io intanto, con il legno di Ubasan, che ho trovato, costruisco un po' di pontini in legno. Vai, vai. Se mi dai metà, ti aiuto. Magari faccio più veloce. Ma il legno di Ubasan è nei funghi che vedi lì in basso. Ah, allora... Che tra l'altro, Andrea, attenzione. Cosa ridi? Non ho detto niente. Già, non so, già non so dove arriva. Non ho detto niente. Io era madonna per un funghi. Ma il metallo d'anni fu... Ah, no, era una bocca. Ok. Prendiamo, vai. Hociò che alcuni di questi funghi emanano veleno. Basta, io ho finito il legno di Ubasan. Non ho più, basta. Ma c'ho l'ascia. Sapete cosa però... Allora, questo gioco, che si basa ovviamente sui metalli, che più in piano vai a sbloccare, no? Sì, come va, là. Esatto. Però manca effettivamente, perché c'è l'era del metallo, c'è l'era del rame, ma manca l'era della pietra. Eh, ma l'era della pietra è quella di all'inizio. Io ho un'ansia a stare qui sull'acqua, che non mi piace, per favore andiamo via, non mi piace proprio per niente. Arrivo. C'è lui, c'è il Kraken, ma c'è veramente il Kraken. Eh, eh, eh. È come... Hai presente, Gardaland, che c'è il... Ma scusami, ma chi è che di voi non ha costruito il basamento sotto la struttura del porto? Perché, ma fa niente, ma fa niente. Stavo volando giù. Fa niente. Quale, qualsiasi cosa metto, se metto un pocherello, magari, questa piazza di... Di pietra. Allora, per fare il fuoco... C'è roba nell'acqua. Per fare il fuoco, ho bisogno della... C'è roba nell'acqua! Correte! È lui, è lui. È venuto in uscito? Via! 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 No, 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 no. È lui, è lui. La centinella di Moria. Te lo ricordi? Io sono stata nell'acqua e non ho trovato niente. Ma che cacca! Te lo ricordi? Avete visto quei tentacoli? Sembravano fatti di... Il gioco del Signore degli Anelli, la battaglia per la terra di mezzo 2. Te lo ricordi, quello del gestionato? No, lo strategico? Sì. Quanto era figo? Eh, se facevi... No! Se facevi i cattivi, quindi Isengard, o Mordor, poteva evocarlo, quel Kraken. Lei ride quando mi vede con un sacco di patate che non so muovere. Che succede? No, 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 ma non possiamo... Ci serve la balestra prima di affrontarlo. L'affronterò la bestia. No, 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 io... Quella balestra. Legolas! Gli occhi, colpitelo sugli occhi. No, perché distruggi tutto? Aiuto! Non gli faccio nulla. Eh... Via, via, fa 200 di danno. No, 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 no. Lo ho visto lì. Riflesso sulla pietra. Lassa giù. 200 di danno alla pietra. Sì, alla pietra, ha fatto male alla pietra. Ma dov'è andata lei? È qua, veni. Che vita è soffogata! Segui la torcia, segui la luce. Qua, salta sulla pietra. Via, 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 via. Non faccio la balestra, via, via, torniamo indietro. Ah, quanta... Ah, dobbiamo farci prima... Eh, si faccia un po' l'arresto. Il Capruan. Prima facciamoci la balestra, poi... Io vorrei dormire, che sono stanco. No, 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 no. Che cazzo di suoni sono? Dov'è l'accampamento? Dobbiamo fare viaggio rapido alla... Abissi quale? Eh, abissi inferiori. Inferiore, ok. Abissi inferiori 1. Io non so mai, ragazzi, in questo gioco dove teletrasportarmi. Ma per fortuna, grazie alla pietra del teletrasporto, siamo tornati a casa. Perché sono qua, in mezzo alla piazza di pietra? Bastano tre colpi, ci dicono, con la balestra. Ma, 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 che schifo? Eh, proviamo a farla, però. Ma perché? Ci vorrà poco e niente. E io dove cazzo sono? Perché sono qua? Penso sia una balestra. Per fare una balestra cosa servirà? Telà. Allora, vediamo un attimo. La balestra dove sta? No, ragazzi, mi sa che non si può fare con questa fucina. Vuole l'altra? Eh, serve un'altra fucina, però non l'abbiamo ancora trovata. A meno che possiamo... Non possiamo, tipo, circunnavigare il kraken? Eh, no, ma mi sa che comunque lui viene, che si aggara lo stesso. Eh, in realtà, la cosa da fare è fare le piattaforme e correre dall'altra parte. Però se lo vuoi uccidere, prima dobbiamo farci tutta la parte inferiore dove c'era il troll e poi andare lì. Per forza. Fate voi. Vediamo però se... Aspetta, perché mi suggeriscono il tavolo da lavoro per fare la... Non credo, perché con il tavolo da lavoro non si fanno le armi. Purtroppo sono già le undici, ragazzi. Ah, no, sì, tavolo da lavoro, ragazzi. Balestra della prima era, fatta. Davvero? È un cammino. 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 Con cosa serve per farla? Il legno del lube, c'è un cammino. Legno e... E pietra. Legno e... Legno e... Prima era bisogna anche farsi, però. Eh, sì. Che bella, che ma enorme. Mi piace, mi piace. Dov'è? Dov'è? Frecce, frecce fertile, ho detto. I dardi della prima era chiedono lingotto d'argento e legno, ma sono costosissimi. Ok, c'è i lupi mannari. Avevo da prendere legno, ragazzi, arrivo subito. Che dovevo ripararmi? Poi, vieni. Vado a fare un po' di lingotti, cosa dovevo fare? Fate i lingotti d'argento. Io intanto... Però sono già, purtroppo, sono già le undici, ragazzi. Sì, sì, è una roba veloce. Facciamo giusto i lingotti. È la prossima volta, ragazzi, con... La monnezza la droppo. Con quello che abbiamo, distrugge... Uccideremo il Kraken, nel mentre io e la Vale... Che figa che è la palestra, porco giù. Cos'è che servono lingotti di? Argento. Argento, io in privato con la Vale andremo a farmare un pochino di più e ci potenziamo ulteriormente. Abbiamo 500 minerali di Argento. Dov'è che è la molla per riparare? La molla è sotto. Qui sotto, dove c'è il tavolo da cucino. Lì, sotto la pietra. Buonanotte, chi sta andando? Invece, per chi rimane, ricordatevi quella parola. Buonanotte, ragazzi, buonanotte. Domani si lavora, va bene, ragazzi. Avete ragione, d'altronde. Dal tronto, come disse San Benedetto. Volevo prendere una bella pastiglietta per la gola, perché ho urlato, ho pianto e ho riso. Nell'ordine... Sì, tutto insieme, tra l'altro. Nell'ordine in cui l'ho detto, effettivamente. L'Eyes of P, ecco, infatti, l'Eyes of P, entra, vedi, tutto torno. Il fiammungo, che è un fungo... Che ci permette... Ma ho soltanto 10 di legno di Ubasan. Quindi cos'è che devo fare? Eh, non ne abbiamo tanto, perché non ne abbiamo mai preso di legno. Ah, i legni per i Dardy. Sto prendendo il legno, sì, sì, sì. Ma quanto serve di legno per fare dei Dardy? Eh, non lo so, l'hai visto tu, perdonami. Non mi ricordo più due, uno? Vado a vedere, aspetta. Spero non tanto, perché veramente, cioè... Eh, ci sono qua, ci sono qua i funghi. I Dardy servono minchia, 10 legni di Ubasan. Eh, però ne fai 20, se non sbaglio. Che belli sti funghetti. No, ma ne fai 20, a botta. 20 o 30, 30 le frecce, i Dardy non lo so. 20, se ricordo. Eh beh, che sei, in alasta. 20, 20. 20 e 1. Comunque ragazzi, siateci. 15, ce ne dà, ce ne... Lo dico niente prima, per spammarmi. Siateci domenica, che porto uno degli indie migliori dell'anno, probabilmente, eh. Siateci. Eh, qua abbiamo lasciato la frecce. Ma chi è che butta la roba per terra, se ne va fatto? Ma che cazzo? Ma hai buttato tutto qui, così. Lui ci prende le robe, che io ci metto le ore a sistemarle in casa, e tu le butti per terra. Ecco, è come avere un figlio. Ti prenderei dalle orecchie, te le farai tirare su con la bocca. È come avere un figlio. Le ore che o le robe da terra? Perché è un po' sconfusa questa frase. Cioè, lo prendi dalle orecchie, ma gliele fai tirare su con la bocca? Che cosa? Sfigati per vari scopi. La roba che butta per terra, su dem. La roba che butta per terra, sulla pietra. Questi asci, allora, qua... Come sotto sedio siamo, eh? Come sotto sedio, eh? Eh, ma che cazzo. No, non posso, non posso, adesso. Eh, lo so, perdonami, però, se no... Eh, va bene. Eh, va bene. Basta che sia un assedio veloce, eh? Non è giusto in casa, oh! Arrivo, arrivo, chiudi la porta. Accendete i fuochi! Ma come è già finito l'assedio? È già finito l'assedio, eh? Ma come è già finito? Ah, no, stanno arrivando da di là. Stanno arrivando, stanno arrivando da tutti i luoghi, da tutti i mari. Dove cazzo? Guarda come gli uccido. Ovviamente in modo goliardico, con la pietra. Eh, ma no, ma c'è un goblin, insomma. Ma uccidi chi che rimangere a fare niente, te? L'ho ucciso uno. Ma che cosa stai dicendo? Ma non si vede niente. Nascono tafferugli. Tafferugli che sembra un inviato speciale di striscia. Ma si è terminato. No, comunque in tre è infattibile fargli assedi, cioè non durano un cazzo. Ma in otto, ma in otto il giorno ti scappano. Te ne arriva uno. In otto arriva un solo tizio. Cioè, non lo so. No, ma non so perché si è baggato così, effettivamente, eh? Cioè, gli assedi giocando in tre sono quattro stronzi. L'assedi in due, ragazzi, vi giuro, sono 30-50 nemici. Magari ha bisogno di bilanciamento. Vabbè, sarà destabilizzato. Io esco. Ok. Io sto mettendo via le ultime robe. Miracolosamente, adesso OBS funziona e pare anche Camify. Andrea ha preso 3 chili nel mentre. Non sappiamo cosa sia successo. Bestiace. Non so perché abbia fatto vedere l'acqua. Non so. Che cazzo mi passa per la terra. No, ma ci siamo completamente rincoglioniti stasera. Sì, sì. Allora, ragazzi. No, per il snobio stasera. Indico in generale. Domani alle 21.30 c'è un gioco che si chiama G-Saint. Quindi siateci perché... Che ride? Mi fa ridere il franciò. Ve lo faccio vedere. È un gioco che indie, molto interessante, che mi piacerebbe analizzare con voi. Eccolo qui. Vedete il bambino disperato, disperso, che mentre scala, diciamo, quella che è un po' la metafora della vita, ossia la pietra. Ed eccoci, in sostanza. Si toglie gli occhiali e via. Perché? Perché scali la montagna? Perché fatti la pietra? In compagnia di questo affarino che non so che cosa faccia, non so che cosa serve. Allora, sembra un cazzo quell'affarino, va detto. Soprattutto anche come lo sta utilizzando in questo... Ah, ok. No, no, quello lì era un altro... Andrea. No, vabbè, sembrava... È uscito per PlayStation 5, è uscito per Xbox 360, per Switch, per PC, ma anche per la pietra. Andranno a sputare l'acqua sul monito, per favore. E quindi, in sostanza, eccoci. No, penso, penso che se dovesse mai... Dovesse andarmi mai di traverso l'acqua, è buona volta che chiamano l'ambulanza. Ma boh, domani si sarà. Invece, posso chiederti un favore? No. Rispondete così, ragazzi, e la vostra vita non avrà problemi. Sì, però... Il no man, invece di yes man. Assolutamente. Puoi mettere The Shadow of Dubbed, quel gioco che porto io domenica, che l'ho giocato 4 ore ed è veramente figo. Penso che sia uno dei migliori inti dell'anno. Allora, The Shadow... Tra l'altro, in italiano l'ho finalmente... Sto finalmente a tradurlo in italiano. The Shadow, uso The Shadow. The Shadow of Dubbed. Sarebbe quindi singolare. È sbadiglio perché... Non lo saprete mai. The Shadow of Dubbed. 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 Non c'è. Perché l'ho scritto male. Non l'ha scritto male. The Shadow? Shadow l'ho scritto giusto. Che vi sono Shadow, non The. Però si chiede sono Shadow. Ah, vedi? È diverso. Shadow. Che schifo. Salute. Shadow of Tomb Raider. Scusate ragazzi, ma sto digerendo HelloFresh. Shadow of Dubbed. L'ha scritto Dax in Enchant. Trovate, finalmente. Comunque ti fanno 15 dardi. Eh sì, ma l'ho detto prima. Allora ragazzi, questo gioco è un pixel art. Volevo portarlo io, però alla fine lo porterà il maestro questa domenica. Ed è un gioco thriller, fatto in pixel art, che in realtà vi fa ritrovare un mondo open map, che voi potete esplorare. Procedurale. Procedurale, esatto. Potete fare un po' quel cazzo che vi va. E dovete... L'altro lui l'ha anche tradotto in italiano, con la mod. Quindi state... Beh, traduzione ovviamente di Google, però meglio di niente. Sì, no, no, lo fa in tempo reale. Tu vedete che si scrive in inglese, poi te lo traduce in tempo reale. Ah, sarà divertentissimo. Sto gioco è figo, perché praticamente... Praticamente vi genera una città, e ogni persona che abita quella città ha un posto di lavoro, un posto dove... Ha un out, un dubbio. E voi siete dei detective, e dovete risolvere i casi. Io, tipo, prima ho fatto una missione secondaria, dove un tizio mi chiedeva di seguire sua moglie per vedere se lo tradiva. Ah, ma là c'è stata la bottiglia, ma... Violetto. No, no, non è che VR. Tra l'altro, credo ti... Ma no, che VR, basta sta cacata del futuro finto e fasullo che promette VR. È figo, è figo, è figo sto gioco. Tra l'altro, attenzione, perché se non sbaglio, questo qua ha la stessa fisica, stesso elementi fisica che c'era in quel gioco lì, come cazzo si chiama, quell'altro con la stessa grafica? Fatto a cubettone. Eh, sì, ho capito, ho capito cos'intendi, ma non mi viene il nome. Mi alzo, perché tu andrassi in piedi nella visuale, io ero giù. Eh, aspetta, facciamo così, guarda. Ecco. È figo, è figo, è figo, è figo, ragazzi, è figo. Che è successo? Sei scollegata? È scappata. Ti sei scollegata? Incredibile. Ho detto, vabbè, chiudo il pc a sto punto perché ho chiuso il gioco. Eh, vabbè, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Eh, ragazzi, mentalità, mentalità parallela. Giustamente. Fatto. Non dico quello che sto pensando. Ragazzi, la mia testa sembra un cazzo, tranquillo. Potete dirlo tranquillamente. Ho la testa a cappella, ma ci sta, è normale. Lei tal cosa?